Amici di milan.soccer eccoci buongiorno e buona domenica e che domenica tutte le volte che gioca il milan è una domenica di doppia festa sempre e quindi apriamo con il sorriso il primo appuntamento della giornata prima di cominciare però come sempre vi invito ad iscrivervi al canale qui sotto fatelo è gratuito quindi un piccolo gesto ve lo chiede anche alienino che è venuto a trovarci da marte a non è marte a ok non ci può dire dove si trova ma non importa la cosa che ci interessa è che ci sta dicendo che lì stanno costruendo il nuovo stadio esatto ma il sindaco in questo caso ve ne fregate bravissimi andremo tutti da lui beh lasciamolo un attimo a riposare però prima ancora l'ultimo piccolo l'ultima piccola raccomandazione il pollice un bel pollice a questo video allora calma e sangue freddo gerry è stato colpito eh sì avete letto la copertina di che cosa stiamo parlando poi parleremo anche di mila monza insomma prima di arrivare o meglio di monza mila però prima di arrivare al punto cioè a quanto accade questa sera bisogna capire quello che è successo ieri perché gerry cardinale ha parlato ma bisogna leggere tra le righe perché abbiamo intitolato gerry colpito colpito gerry perché perché vedete quanto è importante la comunicazione cioè il fatto di non essere sempre come dire reverenti rispetto al re di non essere sempre vicino alle volontà del re è fondamentale l'opposizione e anche l'essere così pungolare tutti i giorni perché quell'intervista io non so se sapete di cosa sto parlando gerry cardinale ha rilasciato una lunga intervista al corriere della sera io qui ho uno stralcio un'intervista importante al corriere della sera in cui smentisce categoricamente la volontà di cedere il club ora tutti hanno scritto tra i commenti anche di video precedenti insomma che sta succedendo questo non se ne va ma a noi interessa poco se lui rimane oppure meno quello che ci interessa è che abbiamo tutti ogni singola goccia ha fatto il proprio lavoro sì anche canali piccoli come questo canali più grandi o comunque coloro che non sono lì a dire quanto è bravo il re quanto è bello il re no questo non funziona perché noi siamo tutti i giorni sul pezzo e cerchiamo di evidenziare gli elementi critici perché non vogliamo bene al milan no perché vogliamo bene al milan ed è per questo che lui ha rilasciato questa intervista ascoltate le parole voglio essere categorico e quindi questo già dimostra come queste piccole gocce da qualsiasi parte arrivino questa pioggia questa tempesta ha colpito un bel fulmine è completamente falso sono qui per starci a lungo e dunque ho un lavoro da fare mi sono impegnato a riportare il milan in vetta alla serie a e all'europa e non mi fermerò prima di aver raggiunto questi risultati vedete quanto è importante poi la registrazione questo è un video che rimarrà a lungo perché noi saremo pronti ad andare ovunque sarà necessario andare per ricordargli che questa intervista se decenni fa sarebbe stata esclusivamente così nella memoria di qualche buon ricordo o pessimo ricordo in questo caso invece la riproporremo in qualunque sede ci verrà proposta e ancora a milano in questi giorni dunque gerry cardinale ha parlato al corriere della sera ha parlato con toni categorici quindi è anche abbastanza irritato da tutte quelle che sono voci e che non sono voci perché guardate il video dopo questo che cosa perché anche lì ci sono dei tratti in cui al di là delle sue verità nasconde bonariamente quella che è in realtà una volontà che è sì di riportare il milan in vetta o al vertice eccetera eccetera ma che già adesso sta operando così come abbiamo detto tutti noi voglio essere dunque come diceva categorico categorico e per i tifosi che mi dispiace perché vengono indotti a pensare a un'instabilità che non c'è nessuno ha pensato all'instabilità che non c'è abbiamo solo pensato che rispetto alla gestione di altri club il nostro si autoalimenta e questo sta a significare che o vendiamo non compriamo e quando compriamo spesso non essendo come dire supportati da una conoscenza e non essendo supportati da qualcuno che abbia davvero un be voglia davvero il bene del milan abbiamo spesso sbagliato avete spesso sbagliato e ancora su pioli piena fiducia al tecnico non essere contento in una certa fase non si traduce necessariamente nel licenziare l'allenatore quindi abbiamo ragione nel dire che non eravamo contenti quando il milan ha perso tutti i treni possibili e oggi si ritrova solo su quello dell'europa league e ancora voglio vedere se il milan dovesse perdere 5 6 partite di fila che cosa accadrebbe credo che pioli stia facendo un buon lavoro in una situazione non facile con una squadra molto rinnovata la situazione non facile chi l'ha creata gerry cardinale e soprattutto una squadra molto rinnovata da chi è stata da chi è stato voluto questo rinnovo quando avevamo iniziato a creare un come dire un trend dal 2022 non cedo alla tentazione di licenziare qualcuno tanto per cambiare qualcosa eppure bisogna cambiare qualcosa caro gerry cardinale perché per noi arrivare secondi o terzi o quarti questo è il vostro obiettivo non è la storia del milan su quando allora potrà considerarsi contento lo sarò quando vinceremo la champions league e qui siamo tutti d'accordo aspettiamo l'ottava champions league caro gerry cardinale ma non l'aspettiamo ora che ha fatto questa bella intervista silenti e pronti a riverirla con un inchino no no noi aspettiamo e tre volte al giorno per quanto ci riguarda ma noi siamo il nulla soprattutto chi ha valore e chi può incidere deve riuscire a farlo e quando si fanno le conferenze stampa non si può andare a chiedere a pioli se preferisce il panettone oppure il pandoro e chi è dentro al milan sa esattamente a che cosa mi riferisco ma dico il campionato è ancora lungo e può succedere di tutte non diciamo sciocchezze per cortesia stiamo a vedere dobbiamo migliorare in tante cose con gli infortuni per esempio ecco per esempio siamo a 36 37 ho perso il conto non lo so più quanti sono gli infortunati e questo per colpa di chi per colpa di qualcuno che dice che avete fatto degli accordi con degli arabi e allora state a vedere il video di mezzogiorno e poi vediamo se non è vero che non ci siano accordi con gli arabi tutti a partire da me devono fare un lavoro migliore ma io non mi licenzerò sarò qui per tanto tempo nessuno vuole vincere più di te non è vero noi molto più di te tu fino all'altro giorno non sapevi neppure cosa fosse il milan il tuo interesse esclusivamente fare lo stadio punto abbiamo cambiato tanto ci vuole tempo per creare un team coeso ce l'avevamo il team coeso vuoi che ti faccia i nomi maldini massara gazzidis vado avanti siamo comunque in crescita non è vero siamo in recessione perché avevamo vinto uno scudetto e siamo andati in semifinale di champions league oggi ci ritroviamo terzi dietro a inter e juventus e fuori dalla champions league quindi non siamo in crescita vicini al secondo posto pensa che è vincente vicini al secondo posto quando al primo posto c'è l'inter caro gerry cardinale e di questo va dato merito a giocatori staff allenatore il ren il ren sono molto soddisfatto di quello che ho visto ma cosa hai visto milan ren fino a qualche anno fa rappresentava l'amichevole trofeo birra moretti caro amico mio non sai neppure di che cosa tu stai parlando e adesso mi fermo qui perché già è più che sufficiente le ultime dichiarazioni riconsiderare san siro non credo a questo punto ma ogni operazione opzione merita attenzione vabbè lasciamo perdere va bene adesso vi faccio vedere che cosa è successo con gli arabi che cosa ha fatto gerry cardinale con gli arabi ci vediamo a mezzogiorno bye bye ciao